Siamo arrivati con un turista in Positano, c'è troppo persone oggi, cosa pensate? Penso che non possiamo piacere il Positano buono perché c'è troppo persone nelle strade E' da questo motivo proviamo a trovare un paese senza persone E non puoi trovare un paese senza persone Quindi non penso che torneremo ancora, infortunatamente perché il Positano è molto buono ma c'è troppo persone Ma molto bello Ma molto bello Il turismo è diverso Penso che troppo turismo può farlo come Positano è Questo è il mio punto di vista Grazie, grazie per l'intervista